buongiorno ragazzi mi trovo in questo piccolo borgo delle filippine guardate sono un posto su una collina un po' lontano qua è pieno di cani guardate il borgo guardate gli abitanti di questo borgo allora vediamo un po' il posto questo posto è molto simpatico perché è un piccolo paesino fuori da tutto non si sa neanche se hanno l'acqua o la corrente dovrebbero averla guardate come sono le case di legno costruite con legnette così poi di solito hanno i polli dentro le gabbie guardate qua stupendo ti fai una camminata una passeggiata mi hai chiesto se voglio bere di solito loro bevono questo room forte già quest'ora con questo caldo io non ce la farei sinceramente magari sono in festa qualcosa del genere ma preferisco non farlo Gli ho chiesto come si chiama, mi ha detto bilet, almeno penso che si chiama il bilet. Vediamo di qua cosa c'è. Ah, c'è un river. Ah, quindi qua c'è un fiume, un fiume che praticamente è meglio non scendere perché rischia di farsi male. E poi qua ci sono tutti i campi di banane e altro. Qua, toilet, CR, working. Sembra un bagno che funziona veramente, hai. C'è un bagno là, c'è un gabinetto, un gabinetto che funziona perché è proprio cementato per terra, quindi vuol dire che lo usano. Incredibile, questo non me l'aspettavo. Ma va bene, io cammino di qua. Vedete la gente come vive. In maniera... Qui di solito coltivano, hanno i terreni di frutta, questo qua è un frutto particolare, molto aspro. Qua vive nel campionamento. 3 minuti, vabbè. Hi. Just check, it's close there, the way it's close, thank you. Poi qua c'è la... Gli alberi di banano. C'è un... Ah, it's close. It's finish. Obusna. Obusna. Thank you. Ok. Quindi là è chiuso e è meglio non si va, si torna magari sulla strada, non so, loro vivono qua così. Questi, ecco, questi sono i contenitori che di solito riempiono l'acqua perché non ci sono i tubi, non c'è l'acqua direttamente nei lavandini qua. Quindi la riempiono in qualche modo, non so dove vanno, per riempirla. E poi la usano, si fanno le docce con il... il tabo. Capito? Hi guys. Beh, adesso voglio far volare il mio drone, mi hanno circondato i bambini perché comunque è una cosa nuova. Say hello. Hello. Hi. Nice, thank you. Allora, adesso farò volare il drone così vediamo questo posto dall'alto e ci divertiamo un po' in questo modo, ecco, dai. Allora. Drone 2. Bye. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. Hi guys. se buлиan? ragazzi dov'ché Gattus? ma la lingua? Gattus? hai ragazzi gattus? il prossimo c'è il mio 식ano c'è il mio è vero ma ne qui Gattus? ho la c'è il tuo c'è il tuo cazano exacto Gagi Ehi no Gagi Wow Thank you Wow, it's for me Wow You can open Ok Salamat Salamat Allora, il ragazzo mi ha dato questo frutto Ampala, frutto Suha Suha, questo qua si chiama Suha, non l'ho mai visto nelle Filippine, adesso lo apriamo insieme Do you have a knife? Oh, you wanna open? Can you open for me? Knife, cut Lo apriamo, lo apriamo, però intanto c'ho anche il drone quindi devo fare un sacco di cose ragazzi Ma dammi Dai, open We try Kusama Vabbè Allora được Tiga Ay Uyy Uyy A Uyy It's O Open Jalala Laglaga никак Elaglag Sige Ok Lang ci Tiga W Uy 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 Decollare Decollo Thank you Angalina ma Dica dito Nakita Say hello hi 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 Tasama hi Nice Oh no I'm dying Ok Look This is Your city Tell me Ecco qua Stiamo facendo vedere la città, bellissima Ci stiamo divertendo, guarda qua Wow 100 m 100 m It's like an aeroplane This is bulihan Maybe Ito Bulihan Cemetery Cemetery Maybe this one Bulihan Come 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 Return Put down Ayan 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 Dica dito Ayan 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 We will try Ved Caffe What is your name? Lera Beautiful name Ticin ok give me time orange similar orange you try orange? no but the shape va bene, mandato questo dolce very matigas di pareti? sarà? proviamo, proviamo proviamo c'è poco succo un po' aspro matamissi sarà? calate per te bello buono buono guarda va casama è questo? è questo? dai casama vai 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 i mattini i bambini mi hanno offerto questo frutto no in realtà il ragazzo adulto buonissimo qui è mezzogiorno non ho ancora mangiato no mezzogiorno e mezzo questi bambini sono molto ospitali mmm buono è italiano italiano l'Italian audience questo è un arancio gigante che non è bianco aspro con poco succo però forse fa bene quindi non mangiamo B B B B perché ho iniziato un anno è 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 un anno segui la mia pagina è un anno 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 bellissimo è un anno è un anno è un anno sono quelle banane che si mangiano cotte quindi è il giorno è un anno anche i filippini sono molto amichevoli e ogni volta che mi ritrovo in questi posti loro ti seguono e ti accolgono come se fossi una star e questo è il bello mi hanno offerto un frutto buonissimo frutto buonissimo sono molto felice ora torno grazie molto per la frutto, l'ho provato se vuoi un drink? no no no, per favore sai il meragli di meragli di frutto? si, lo provato non, non, è una pomelo, è una pomelo questo è un meragli di frutto no no, è un grande? no è un grande è non la stessa non la stessa, ma è un meragli di frutto si, lo stesso è un meragli di frutto No, allora, Miracle Miracle fruit Salamat, next time Ok, I'll give you a miracle fruit Ok, thank you Sam Thank you, next time, for sure Ok Thank you Bye Vedi, vogliamo farmi un altro fruit Però ormai si è fatto tardi È ora di andare per me Ho anche altri lavori Oggi devo Lavorare pomeriggio al ristorante Questo È un giretto che ho fatto Guarda quanti cani che entrano e escono Va bene ragazzi, grazie mille Per tutto, grazie per seguirmi, mi raccomando Mettete un like al mio video, seguitemi E E basta, quindi ci vediamo nella prossima Puntata, ciao